Dozens Creek Lo ha annunciato al programma The Tonight Show l'attrice Katie Holmes che quando era adolescente è stata una delle protagoniste. Ogni tanto ci vediamo, ha detto l'ex moglie di Tom Cruise e mamma di sua figlia Suri e presto ci troveremo tutti insieme, per festeggiare i vent'anni dalla messa in onda della serie. I fans sperano anche in una nuova stagione del telefilm, anche se non è ancora prevista. Le parole dell'attrice Katie Holmes ha detto al conduttore di The Tonight Show, Jimmy Fallon, che ogni tanto rivede colleghi come James Van Der Beek, Dawson Leary, Joshua Jackson, Pacey Witter e Michelle Williams, Jay Lindley, suoi vecchi compagni di avventura in Dozens Creek, e presto li rivederà pubblicamente nel ventennale della serie TV per la gioia dei fans. Tuttavia è lei stessa a smorzare le loro speranze di un reboot, affermando che è meglio che le cose rimangano così. Lo aveva già detto Joshua Jackson, commentando i revival dei cosiddetti teen drama che stanno avvenendo in questi ultimi anni, ma non sempre con risultati soddisfacenti anzi, ha anche detto che non farà vedere la serie ai propri figli, perché a quanto pare non ne va molto fiero. Sembra dunque che coloro che avevano amato Dozens Creek debbano, limitarsi, ad attendere l'attesissima riunion del cast, che sarà sicuramente documentata anche sui social come lo sono state altre di quel periodo. Il suo ricordo Katie Holmes ha dichiarato di essere, molto onorata, di aver fatto parte di Dozens Creek. Lei e gli altri protagonisti erano, dei bambini, dice oggi l'indimenticata Joy Potter, che faceva battere il cuore sia ad Oson Larry che a Pacey Witter, avevano 18 anni, mentre Michelle Williams addirittura 16. L'ex signora Cruise ricorda ancora molto bene il suo primo provino per il telefilm, che rischiava di perdere per via di una recita scuola in cui interpretava la parte manco a dirlo della protagonista. Ma non lo perse ed ebbe successo. Tempo fa l'attrice aveva scritto su Instagram a corredo di una foto che la ritraeva assieme a James Van Der Beek al creatore del telefilm, Kevin Williamson, di ricordare quello di Dozens Creek come un periodo magico, per cui sarà eteramente grata a tutti quelli che ci hanno lavorato e ovviamente ai fans. Certamente quest'ultimi ricambiano i suoi sentimenti, diritti d'autore, riproduzione e riservazione.